Alleniamoci per il concorso scuola, ascolta la domanda, ragionaci su bloccando il reel, quindi tenendo premuto sullo schermo, per poi scoprire qual è la risposta corretta. Domanda numero uno, chi ha elaborato l'espressione linguaggio giraffa? La risposta corretta è Marshall Rosenberg. Seconda domanda, chi ha coniato il termine scaffolding? Il termine scaffolding è stato coniato da Brunner. Per Skinner, il rinforzamento è una legge dell'apprendimento che si può definire? La risposta corretta è la D. Secondo Skinner, la legge dell'apprendimento che è il rinforzamento si può definire empirico-probabilistica. Ultima domanda per oggi, le cianfrusaglie senza brevetto, erano parte integrante del progetto educativo di? La risposta corretta è Rosa e Carolina Agazzi, avevano introdotto come materiali le cianfrusaglie senza brevetto. Questo è il testo da cui sono state tratte le domande di oggi. Se mi iscrivi in privato, posso darti il codice sconto e il link affiliato per procedere all'acquisto. Intanto fammi sapere nei commenti com'è andata. Ciao!